ciao a tutti bentornate e bentornati sul mio canale per chi non mi conoscesse mi chiamo emiliano giuseppe pratico ovviamente gestisco un canale che si basa poi sulle recensioni di film serie tv e anime e quello che caratterizza almeno secondo i miei iscritti e questo mi fa molto piacere le mie recensioni è che le stesse siano poi suddivise in capitoli da poco ha preso campo la sezione gli imperdibili dove poi vado un attimo a parlare di quelli che sono i film imprescindibili per me e del mio passato quelli che hanno poi caratterizzato effettivamente la mia evoluzione anche nell'ambiente che hanno caratterizzato i miei gusti ovviamente le mie passioni le mie idee e tra essi ovviamente c'è grosso guaino a chinatown non vorrei essere pesante ma ricordo comunque che gli imperdibili sono ad ora trattati sono frutto di una votazione che è avvenuta in community vi dicevo parlavo dei capitoli i capitoli che vanno a contraddistinguere generalmente le mie recensioni sono ben chiari per quanto concerne gli imperdibili sono la trama e le informazioni generali gli attori e la recitazione la regia la scenografia gli effetti speciali e la fotografia la storia e la costruzione dei personaggi e infine il mio giudizio personale che in questo caso a differenza delle altre decisioni è senza avuto che dire direi di cominciare senza annoiarvi eccessivamente con quelle che poi sono i primi capitoli grosso guaino a chinatown è un film statunitense del 1986 diretto da john carpenter il film è stato caratterizzante in quegli anni perché va poi a mescolare più generi perché richiamo ovviamente la commedia il genere azione fantastico senza trascurare la presenza delle arti marziali in italia è uscito al cinema il 5 settembre del 1986 ed è stato distribuito dalla 20 centuries fox la trama è molto è molto semplice soprattutto per chi lo conosce il rozzo camionista americano jack barton alla guida del fidato pork chop express parla con una voce sua dente e cattura immediatamente l'attenzione dello spettatore ai tempi non paganti perché io non ebbi la fortuna di guardarlo al cinema ma lo passò la televisione qualche anno dopo successivamente dopo una partita a un gioco d'azzardo assieme al suo giovane amico cinese wong chi si recano i due all'aeroporto di san francisco per prendere la fidanzata di wong mao jing però purtroppo all'aeroporto succede che mao jing viene rapita da una banda di teppisti cinesi chiamate i signori della morte che la portano nel quartiere di chanatown con l'intenzione di venderla come schiava sessuale jack e wong nel seguire i rapinatori anzi i rapitori scusate il refuso entrano nei quartieri di chanatown dove si consuma uno scontro tra i chang singh e wing kong questi hanno interrotto il corteo funebre del defunto capo dei chang singh scatenando la battaglia lo scontro viene interrotto dall'arrivo delle tre bufere tre potentissimi guerrieri maghi tuono pioggia e fulmine che attraverso le loro magie la grande conoscenza delle alte marziali vanno a pilotare quello che è l'esito dello scontro perché si schierano a favore di wing kong decimando e disperdendo i chang singh con i loro poteri sovrannaturali jack e wong si mettono in salvo dopo un incontro ravvicinato con david lopan il malvagio e tenebroso capo mandarino dei wing kong chiaramente i due proseguono in quella che è la loro avventura e si rifugiano nel ristorante drago dello stagno nero e fanno conoscenza con l'avvocatessa americana grassy lo è di lì che un amico di wong il saggio mago egg shen che lavora come guidatore di corriere per turisti diciamo natan inizierà ora l'avventura volta a sconfiggere il malvagio lopan e a salvare la fanciulla rapita importante anche perché abbastanza caratterizzante è far presente che la canzone finale è scritta e cantata da coupe de ville una banda formata dallo stesso john carpenter nick castle e tommy lee wallace regista della seconda unità del film anche in questo suo film carpenter ha composto l'intera colonna sonora strumentale questa è una notizia effettivamente caratterizzante che non conoscevo che mi fa piacere riportarvi proprio perché è frutto di una ricerca e quindi non della mia memoria andiamo ora avanti con gli altri capitoli attori mastodontici per una performance mastodontica nonostante il film non ebbe una grande accoglienza quando uscì e incassò mi pare 11 milioni di dollari nelle prime settimane e venne subito classificato come un flop nel tempo e negli anni alla fine grazie anche al video alle televisioni è diventato un cult degli anni 80 ed era inopinabile ed era inopinabilmente già chiaro che sarebbe per me quantomeno dovuto essere così troviamo quindi kart rasser nella parte di jack barton dennis dunkel non era la prima scelta nella parte di wong chi victor wong nella parte di egg shen e james hong nella parte di david lopè poi anche la grande per me kim katral nella parte di grace lo mentre su z pai fa mao ing anche le i tre che ora mi viene da dire scusatevi i tre cicloni ma voglio dire invece le tre bufere che quindi sono tuono pioggia e fulmine rispetto interpretate rispettivamente da carter wong peter wong e james pucks sono effettivamente caratterizzanti e fanno dei loro personaggi un'icona un'icona il film quindi ci presenta degli attori fanno della loro performance delle loro interpretazioni qualcosa che è rimasto nella storia perché tutti quanti oggettivamente ricorderanno per sempre credo il grande gigante kart rasser che con la sua voce sua dente mentre guida proprio il suo grandissimo e incontrollatissimo perché era era un furgone era un camion di dimensioni epiche per i tempi il suo pork chop express tutti quanti lo ricorderanno che già dai primi istanti quando inizia a parlare con quella che poi una radio non più inutilizzata per le autotrasportatori lo vediamo sin da subito che il suo personaggio ci catturerà poi erano i tempi ora se voi direte ai tempi no effettivamente non era così perché il maestro era già deceduto va bene però voglio dire voglio dire che erano anche i tempi in cui effettivamente era c'era ancora l'ondata delle arti marziali nonostante bruce lee fosse morto nel 1973 i suoi film riecheggiavano nella memoria degli anni 80 cioè quindi questo prodotto che ci presenta anche delle arti marziali fu uno dei prodotti no che cercava di miscolare più generi la comicità l'azione il fantasy le arti marziali per l'appunto e quindi non era così scontato che venisse accolto con un effettivo consenso di fate così non fu però è indubbio che se noi lo dovessimo valutare oggi nel tempo che è passato nel tempo che allora fu non potremmo fare altro che renderci conto che gli attori fecero qualcosa di mastodontico perché non c'erano gli schermi verdi green screen non c'era la computer grafica riprodurre anche lo stesso occhio no che poi era la vista se non ricordo male di david lopan che venne mosso da più da più di mi pare di 40 o 50 cavi cioè un prodotto che comunque andò sullo schermo che era frutto di uno sforzo profuso effettivamente va a significare quanto recitazione attori e anche le medesime comparse fatte con quelli che allora erano gli effetti speciali siano caratterizzanti di un prodotto iconico poi ovviamente questa è la mia opinione posso ben condividere comprendere che le vostre non siano così cioè quando si parla di prodotti di un certo calibro non è mai semplice né scontato dover ammettere che il proprio parere personale può non coincidere con quello della massa però vi posso garantire che per gli anni che furono anche oggi riadattandolo non guardare grosso guai non conoscerlo sarebbe più che più che un problema un oltraggio per chi è veramente un amante del settore cioè un amante del settore dovrebbe comunque passare secondo me per questo prodotto regia scenografia effetti speciali e fotografia per quello che mi riguarda ed è un mero parere personale raggiunsero un livello assoluto per i tempi perché ve lo spiego subito perché uscirono la regia caratterizzante che parte dal buio della notte con se non ricordo male con la pioggia con il buon kart rasser che con la sua voce va subito ad attirare l'attenzione dello spettatore che poi viene teletrasportato immediatamente in un mi pare in un luogo comunque di scambi di scarico mi pare fosse un porto però non ne sono certo comunque nel bel mezzo di un gioco d'asado per poi andare all'aeroporto una storia che parte con più luoghi e ci sposta immediatamente alla fine nel quartiere di chinatown dove impazza una battaglia che è estremamente dettagliata e quando arrivano i tre cicloni no sto scherzando dai quando arrivano le tre bufere effettivamente vedere questi colpi di magia di arti marziali che oggi possono sembrare abbastanza retrogadi lo capisco ormai siamo abituati a vedere tutto fatto col green skin anche il monte l'albero con questi bordi che sfarfallano su questo green skin a volte in maniera quasi ridicola capisco che poi voi molti di voi ci siano nati e lo trovino normale però normale non è e quindi dicevo ritrovarsi un po con questo retro potrebbe essere un impatto non così gratificante ma se riuscissimo se riusciste a contestualizzare un prodotto dell'86 vi rendereste conto che si tratta di magnificenza cioè abbiamo una regia una scenografia anche nella ricostruzione dei costumi delle tre bufere delle arti marziali esposte dei degli interni dei palazzi dei chimoni ci abbiamo qualcosa che veramente era di un livello assoluto anche la fotografia per i tempi nonostante i cambi di ambiente si passava come vi dicevo dalla notte all'aeroporto a china town ai culico di sottelani al palazzo lo chiamo di giada ma chiaramente non si chiamava così è caratterizzante vedere questa fotografia che non fallisce mai non sbava mai una colonna sonora importante imponente che segue le azioni ne dà da risalto ne dà da enfasi a ogni scena era veramente una cosa che oggettivamente un po ai giorni nostri mi manca perché è diventato un po tutto più comune un po tutto più scontato con questi remake reboot che partono che ricominciano che non finiscono mai ma che alla fine come ha detto anche il buon james moriart in uno dei suoi commenti che ho apprezzato tantissimo siamo qua a copiare quello che fu cioè lui non ha detto proprio così però il senso è questo siamo qua a copiare quello che fu perché le idee che riusciamo a produrre sono veramente allora se così invece non fu per il grosso guai in a china town che fece della sua idea un cult di un prodotto sul quale nessuno avrebbe scommesso un euro che si è rivelato negli anni che seguirono un cult veramente di un livello altissimo e la regia la scenografia gli effetti speciali e la fotografia hanno fatto in modo hanno contribuito affinché questo magico prodotto rimanesse vivido nella nella memoria delle persone che l'hanno visto e fosse così tramandato di generazione in generazione fino ai giorni nostri dove comunque molte persone lo conosco questo grazie anche a regia scenografia effetti speciali e fotografia che hanno portato sullo schermo uno spettacolo mastodontico che mai sbava in nessuno dei comparti menzionati almeno ovviamente per me la storia e la costruzione dei personaggi gioca nell'equilibrio un equilibrio assoluto che cerca di fare e non è facile lo sapete quanto non è facile di fare condividere un genere differenti di prodotti differenti perché qua passiamo dalla commedia all'azione al fantasy voglio dire non è facile riuscire a convincere con una storia che deve far ridere deve intrattenere con l'azione e deve essere a vincente in questo caso grosso guaino a chinatown non perde un colpo abbiamo una storia solida che segue veramente i quelli che sono i crismi no poi della scrittura creativa che parte con un incipit ben chiaro e ci mostra subito il primo personaggio jack barton ci viene mostrato in tutta la sua comicità con questa voce importante con questo carattere un po grossolano e lui carattica va a caratterizzare la nostra prima immagine a catturare la nostra attenzione da lì veniamo trasportati in una storia infinitamente solida che non perde mai un colpo anche quando diventa persino no come dire improbabile perché non era facile poi neanche fare appassionare quelli che allora erano gli amanti del genere di arti marziali a un prodotto tanto diverso dagli alti livelli che riusciva a esprimere il maestro bruce lee però questo prodotto che in nessun caso cerca ovviamente di emularlo di copiarlo o nemmeno di attingere però riesce a avere il coraggio di fondare una storia una storia classica e fantasy fonderla con il mondo delle arti marziali non era così scontato erano prodotti embrionali che andavano a scavare poi no nella nella voglia di provare di tentare qualcosa che probabilmente non sarebbe stato capito oggi verrebbero definiti folli no chi si che si cimentasse in un prodotto del genere e poi generalmente con quello che fu un risultato ai tempi non esaltante verrebbe subito cassato come un cataclisma commerciale perché noi poi non diamo mai una seconda opportunità noi siamo proprio i padroni del nostro giudizio non riusciamo ad ammettere che il nostro giudizio possa essere sbagliato allora invece ci fu qualcosa che andò oltre il giudizio della critica all'accoglienza in sala il prodotto grazie anche alla sua storia e costruzione dei personaggi riuscì poi avere un eco talmente importante talmente imponente da diventare un cult perché poi è chiaro se lo andiamo analizzare noi abbiamo questi personaggi ma anche lo stesso eg shag interpretato da victor wong o james hong che va a fare david lopena noi abbiamo lo scusate noi abbiamo veramente dei personaggi che sono costruiti su una storia solida cioè la storia ci va a portare avanti questi personaggi improbabili come i tre cicloni che lo so lo so sto scherzando mi piace chiamarli così da kung fu panda so che sono le tre bufere anche se io non ricordo i nomi me li scrivo e quindi lo so però abbiamo questi personaggi che vanno proprio a caratterizzare un mondo al quale non avremmo mai pensato di assistere quando abbiamo cominciato a vedere grosso guaino a china tanto non c'erano i trailer non c'erano il primo tele secondo tre il sub trailer no no non c'era niente c'era il film che arrivava tu lo guardavi in televisione al cinema se avevi la fortuna e questo in questo caso è una storia che andava oltre quello che mai potessimo immaginare con dei personaggi che sono stati costruiti in modo talmente solido da risultare tutt'oggi in maniera iconica a buona parte del mondo che ama ovviamente questo prodotto ora non voglio annoiarvi direi di aver esaurito un po gli argomenti mentre vi mostro questo mostro scusate che la ripetizione che poi con i suoi occhi dava vita dava vista non dava vita dava vista a developer questo è un chiaro manifesto di quello che allora erano gli effetti speciali perché esso rappresenta veramente un punto altissimo della manifestazione degli effetti speciali di allora quindi che dire fino adesso direi che un comparto fragile non c'è almeno per me poi è chiaro che per voi ce ne possano essere tantissimi andiamo velocemente con il giudizio personale concludiamo questo video dovessimo quindi ricapitolare tutto per accomunare il video a una recensione classica ripartirei dicendo che mentre il buon jack barton prendisce questa mitraglietta grosso guerra china tan un film statunitense dell'86 diretto da john carpenter è uscito in italia il 5 settembre dell'86 ed è stato distribuito da ue da 20th century fox in sostanza la storia è molto semplice il camionista americano un po rodo jack barton alla guida del filato port shop express parla con una voce suoi dente alla radio e cattura subito l'attenzione dello spettatore successivamente si butta in una bisca clandestina e poi con il suo amico cinese wong chi si reca all'aeroporto di san francisco per prendere la fidanzata di wong mao jin che però viene rapita dai signori della morte che la portano nel quartiere di china town quartiere nel quale infuria una battaglia tra i chan singh e wing kong che viene decisa dalle tre bufere tre potentissimi guerrieri maghi tuoni pioggia e fulmine che con i loro poteri si schiederanno a favore dei wing kong e stermineranno i chan singh questo in sostanza un po il sud jack e wong quindi si rifugieranno nel ristorante il colpo grosso al drago rosso no sto scherzando dai drago dello stagno nero e fanno conoscenza con l'avvocatessa grace lo è di lì e il saggio mago egg shen che faceva il conduttore di turisti attraverso del suo furgone a china town la canzone finale questo è importante ve lo voglio dire è scritta e cantata da da cub de ville una banda formata dello stesso john carpenter nick castor e tommy lee gli attori che prendono parte a questa pellicola iconica sono conosciuti e vedevo mostrati in precedenza in quella che è chiaramente la sezione opportuna troviamo che al kart russell che fa e jack barton denise dunque tra un buon ci victor won che fa egg shen james hong che intervita david lopan e kim katra che fa grace lo oltre ovviamente a carter one petter hong e james pucks che fanno tuono pioggia e fulmine ci sono ovviamente altri attori che con la loro recitazione o che fanno della loro recitazione un punto saldo della pericola regia scenografia effetti speciali fotografia per me sono ancora più elevati per quanto sia possibile di questo capitolo perché perché esprimono una qualità assoluta con i mezzi che c'erano allora non fanno mai pensare che si potesse fare qualcosa meglio poi se siete delle amanti del green screen che senza la computer non vivete allora probabilmente si poteva far tutto meglio però io reputo che alcuni prodotti di una volta alcuni effetti speciali di una volta mantengono ancora più dignità della quantità mostruosa di denari che vengono investiti oggi per produrre spesso e volentieri del patum però anche in questo caso è un parere personale comunque regia scenografia effetti speciali che sono di un livello assoluto con una fotografia grandiosa che non sbava mai la storia e la costruzione dei personaggi anche in questo caso un punto indissolubile della pellicola una storia originale caratterizzante caratteristica che va a fare della sua forza l'originalità perché attinge da più prodotti attinge da più generi un po commedia è un po fantastico è un po azione è un po arti marziali e fonde tutto quanto in un prodotto unico almeno per i tempi nel suo genere che ci trasporta in più ambienti in più scene in più scenografie e lo fa sempre con sapienza una storia che non delude mai che non traballa mai che fa dei personaggi un qualcosa di iconico che ricorderemo ricorderete penso per tutta la vostra vita anche quando la pellicola sembrerà un po quello che oggi a noi sembrano il film muti in bianco e nero che comunque sono prodotti che meritano la nostra attenzione e così come questo immagino meriterà sempre l'attenzione degli amanti del settore come sapete non voglio diventare pesante non esprimo un voto per gli imperdibili vi invito ovviamente nel caso vi andasse a guardare il mio canale sono presenti alcuni short con le recensioni volanti è presente indovina film giochi e gp che un po richiamato da indovina chi giochi mb ogni mercoledì dove laura per ora è imbattibile sta indovinando tutti i film accidenti anche l'ultimo che avevo messo che ho cercato in tutti i modi di di fare un prodotto impossibile perché ho preso un prodotto un po di nicchia il regno del fuoco l'ho contestualizzato con una scena improbabile ho messo un indizio inutile ma non c'è stato verso di batterla comunque oltre a lo trovate la sezione degli imperdibili che è questa è già uscito il corvo i gunis e ora sarete voi a votare i prossimi e le altre sono categorie normali quindi film serie tv anime di short con le recensioni volanti che dire io vi saluto nel caso in cui ovviamente vi andasse di scrivere riattivare le notifiche io vi sarei ben grado e riconoscente se lasciaste un commento sarebbe ancora più appagante io come sempre vi ringrazio vi saluto e auguro a tutti una buona giornata con un ciao da M